Buongiorno a tutti, rappresento la società Marco Rossi SRL, questo progetto è stato elaborato in collaborazione con lo studio del dottor Lardini. Andremo a presentare la nostra azienda brevemente e successivamente il progetto e i punti di forza che crediamo possano essere del nostro progetto. La nostra azienda è un'azienda storica che ha una struttura organizzativa importante e diciamo che è caratterizzata dall'eccellenza e dall'internazionalizzazione. In particolare da quattro generazioni il gruppo Rossi produce e distribuisce borse ed accessori per i più importanti marchi di moda in Italia, italiani ed esteri. In particolare ci siamo evoluti grazie alla manodopera specializzata, agli investimenti e al know-how tecnologico e abbiamo fatto della nostra strategia competitiva il fatto che dal 1922 abbiamo trasformato la nostra natura originaria, ovvero artigianale, in una realtà sempre più globale e sempre più abbiamo trasformato la nostra produzione e distribuzione diciamo avendo un carattere sempre più internazionale anche grazie all'aiuto del marketing. Questi sono solo alcuni dei marchi con cui abbiamo collaborato in tutti questi anni. Nel 2009 il più recente accordo di collaborazione è stato siglato con la misonna romana Gattinoni. Il gruppo Marco Rossi ha cresciuto il suo portfoglio clienti, in particolare ci stiamo concentrati e ci stiamo concentrando sul mercato estero che ad oggi rappresenta il 30% del nostro fatturato totale ed è comunque in crescita e partecipiamo molto a fiere del settore, in particolare nei paesi emergenti e sul continente asiatico e cerchiamo di essere presente nei più importanti e prestigiosi department stores con i nostri prodotti. Abbiamo preso questa citazione come nostra vision, diciamo che vogliamo un po' come tutti voi rendere il sogno di uno solo, il sogno un po' di tutti, un po' comune per renderlo reale. Quindi la nostra proposition per l'Expo di Varese è quella di attrarre visitatori stranieri, informarli circa le eccellenze territoriali ed esporne le qualità, accoglierli sul nostro territorio e lavorare per formare un sistema coeso e coordinato insieme. In particolare il progetto della Marco Rossi è quello di divinire un polo catalizzatore del tessuto industriale, commerciale, artigianale e locale e soprattutto sviluppare un itinerario turistico come è già stato detto da alcuni di voi, che coniughi lo shopping nel nostro caso insieme all'enogastronomia, lo sport, la cultura e la storia. Metteremo a disposizione il nostro stabile che è comunque decisamente vasto 7.000 metri quadri esterni e 4.500 metri quadri interni sviluppato su due piani come location per eventi, temporary warehousing per lo stoccaggio della merce e temporary outlet. Vorremmo fare questo con la cooperazione di tutti, in particolare delle altre aziende e degli enti cercando di coordinare un calendario di dati e aumentare la permanenza media sul territorio da 1,8 a 3 giorni. Quindi saremo disponibili ad accogliere mostre piuttosto che una sorta di fiera temporanea poi magari permanente all'interno del nostro stabile per far sì che tutti espongano i propri prodotti e servizi. I punti di forza del nostro progetto sono il facile vicino accesso autostradale spazi modulari per lo stoccaggio della merce spazi estesi flessibili e adattabili ad ogni esigenza impianti e attrezzatura norme di recente costruzione la possibilità in quanto azienda produttrice di produrre merchandising e infine una cosa che non guassa è la vista strategica sul territorio, sul lago e il Monte Rosa in particolare. I partner istituzionali con cui vorremmo collaborare sono la Regione Lombardia, l'Agenzia del Turismo, la Camera di Commercio di Varese e il Comune di Bodio Lomnago e i partner di rappresentanza della nostra categoria quindi Api, Confartigianato, Univa e Confcommercio. Speriamo anche che questo progetto possa divenire anche non solo temporaneo ma possa proseguire dopo l'Expo e quindi che il nostro stabile venga considerato in futuro e vi ringrazio per l'attenzione.